Albano Carrisi nasce il 20 maggio 1943 a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi. Figlio di Carmelo Carrisi, 1914-2005, e Yolanda Ottino, 1923-2019. Una coppia di agricoltori e fratello maggiore del cantautore Cochis, Franco Carrisi, si diletta sin da piccolo a suonare la chitarra e a cantare stornelli e canzoncine della sua terra d'origine. Scrive a 12 anni le parole di una canzone da lui improvvisata con la chitarra. Addio Sicilia. Frequenta l'istituto magistrale Pietro Siciliani di Lecce, che lascia a 17 anni per trasferirsi a Milano. Lavorando nel ristorante Il Dollaro del Capoluogo Lombardo, frequentato da personaggi dello spettacolo, ha l'opportunità di farsi conoscere dal produttore maestro Pino Massara, che lo invita a sottoporsi a un provino alla Celentano Massara, casa di produzione affiliata aperta alla ricerca di nuovi talenti. Stiamo parlando di Albano Carrisi. Dagli anni 70 alla metà degli anni 90, insieme all'ex moglie Romina Power, ha formato uno dei sodalizi musicali più famosi della musica italiana. Ancora oggi, alcuni brani del duo sono delle pietre miliari della musica nostrana. Dopo anni di conflitti e accuse reciproche, oggi i rapporti tra Albano Carrisi e Romina Power sono notevolmente migliorati. Basti pensare che i due sono tornati anche ad esibirsi insieme. Come detto, i rapporti tra Romina Power e Albano Carrisi, oggi, sono nettamente migliorati rispetto agli anni scorsi. I due furono ospiti insieme sul palco del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2020, voluti fortemente dal conduttore e direttore artistico Amadeus. Annunciarono anche un tour, che avrebbe avuto anche tappe europee, ma la pandemia Covid fece saltare i loro piani. Negli ultimi tempi, complici alcune scintille tra la cantante americana e l'attuale compagna dell'artista di Cellino San Marco, Loredana Lecciso, sembrerebbe che sia tornata a una certa distanza. Ma questo non è stato confermato dai diretti interessati. Eppure, di recente, nel corso di un'intervista, la ex coppia d'oro della musica italiana ha fatto parlare ancora una volta di sé. Albano Carrisi, di recente, è stato ospite di Silvia Toffanin negli studi di Verissimo, su Canale 5. A sorpresa, la padrona di casa ha mostrato al cantante di Cellino San Marco una clip di Romina Power. L'artista americana, nel video, ha parlato del rapporto strettissimo con la mamma di Albano, la signora Yolanda, venuta a mancare alcuni anni fa. Power ha spiegato che anche dopo la separazione e il conseguente divorzio non ha mai smesso di recarsi in visita a sua suocera, con la quale aveva un rapporto magnifico. L'ex moglie di Albano ha anche rivelato che la croce che lei porta sempre al collo è un regalo proprio della signora Yolanda, a testimonianza del profondo affetto tra le due.